Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti allo Jacopo da Montagnano. Allo Jacopo sei due passi da uno splendido passato. E se ci sceglierai, sarai due passi dal tuo futuro. Bene, adesso seguimi. Stai già pensando a cosa farai da grande? Eh, lo so, per te manca ancora qualche anno, ma qui allo Jacopo si cresce in fretta. Se vuoi diventare un mago dell'informatica, lo Jacopo è il posto giusto per te. Vieni al liceo delle scienze applicate. Qui potrai acquisire conoscenze e strumenti che ti permetteranno di comprendere al meglio le opportunità derivanti da questo settore. Inoltre, potrai iscriverti al corso di robotica per imparare la programmazione. Aspetta, non finisce qui. Se sogni di lavorare nel mondo della medicina e della microbiologia, il nostro liceo scientifico a profilo biomedico fa proprio il caso tuo. Non chiamarlo soltanto il liceo scientifico. Il nostro liceo ha una marcia in più. Al bienio studierai matematica un'ora in più, ma non chiamarla soltanto matematica. All'indirizzo biomedico unirai le scienze e la matematica per analizzare i risultati degli esperimenti svolti ed entrare nel mondo della ricerca scientifica. E c'è ancora di più. Al pomeriggio potrai seguire dei corsi di microbiologia e al triennio svolgerai un tirocino orientativo perso ospedali, studi medici e laboratori di analisi. Sarai pronto così a trasformare il tuo sogno in realtà. Niente paura, sei ancora lo Jacopo e io ho il piacere di presentarti il nostro nuovo indirizzo professionale Servizi Commerciali Web Community. Se sei un patito del web, ma non ti accontenti a postare storie su Instagram o a smanettare con il tuo PC, se vuoi essere un protagonista attivo della rete, se vuoi creare pagine web per organizzazioni e aziende, lavorare nell'e-commerce, essere manager di profili social e blog commerciali, se pensi in grande, qui da noi ti troverai alla grande. All'indirizzo Web Community potrai studiare discipline come l'informatica, la grafica, il diritto per il web, l'e-commerce, il web marketing, come anche l'inglese specialistico per il lavoro sul web, il tutto in una didattica completamente laboratoriale. Niente paura, sei ancora lo Jacopo, nella sede dell'alberghiero, l'altra anima del nostro istituto. E io sono qui per introdurti nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza. I ragazzi vengono formati per diventare guide turistiche, adetti al ricevimento nell'hotel, agenti di viaggio, tour operator. Io sono Nicolo, ho capito che la mia passione era quella di rendere un luogo più accogliente. I nostri ragazzi imparano a gestire una cucina alla fine del loro percorso, prestano anche particolare attenzione a quelle che sono esigenze dietetiche. Noi cerchiamo di puntare moltissimo sulla pasticceria innovativa. Insomma, che aspetti? Lo Jacopo ti aspetta! Grazie. 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 Grazie.